Terza dose per gli over 60. Ieri un ottimo inizio in Abruzzo, circa 1.400 le persone che si sono prenotate. Una campagna dunque che sta andando avanti su buoni ritmi. Ricordiamo che possono prenotare la somministrazione solo ed esclusivamente coloro che hanno ricevuto la seconda dose da almeno sei mesi. Il discorso naturalmente è valido anche per chi ha ricevuto il vaccino monodose Johnson & Johnson. Su come stanno rispondendo gli over 60 e su altre informazioni utili per questa campagna vaccinale abbiamo sentito il dottor Rossano Di Luzio, responsabile della campagna vaccinale ASL di Pescara. Proviamo a fare chiarezza. Chi si può effettivamente prenotare? Possono prenotarsi alla terza dose tutte le persone che hanno superato i 60 anni d'età, 60 anni compresi. Poi oltre a queste persone a 60 anni si possono prenotare le persone che lavorano in ambito sanitario, quindi personale sanitario o di interesse sanitario e per interesse sanitario intendiamo, non so, gli autisti di ambulanza, il personale delle pulizie dei vari luoghi di cura o il personale delle mense e altre tipologie simili e persone affette da alcune patologie. Patologie per lo più gravi come pazienti oncoematologici, pazienti con HIV, pazienti in dialisi, pazienti che hanno dei sistemi immunitari deficitari. Parlando della provincia di Pescara vogliamo ricordare quanti e quali sono i centri a disposizione degli utenti? Sì, i centri sono tre, c'è il centro dell'outlet di Città San D'Angelo che è aperto tutti i giorni da lunedì al sabato, la mattina e il pomeriggio. Poi c'è il centro di Scafa e di Penne, attualmente questi sono aperti fino al 15 novembre, il mercoledì e il venerdì, il pomeriggio, ambedue in queste date. Per tutti c'è bisogno di prenotazione oppure ci si può recare e ci si vaccina? Allora per questa settimana e per la prossima settimana è possibile andare sia con prenotazione sia senza prenotazione, poi valuteremo la situazione e decideremo il da farsi. A proposito della prenotazione, come si fa e dove si fa? Allora le prenotazioni può essere fatte sul sito internet delle poste direttamente dalle persone oppure telefonando a un numero verde che è l'800 00 99 66 oppure tramite gli uffici postali o i portalettere o i bancomat. Dottor Di Luzio, se il mio Green Pass scade per esempio il 20 di dicembre, quindi a ridosso delle festività natalizie, posso attendere per fare la terza dose magari i primi di gennaio? Allora non c'è nessuna attinenza tra Green Pass e terza dose. Il Green Pass la si ottene dopo aver fatto il ciclo vaccinale della prima e della seconda dose. La terza dose non ha funzioni autorizzative nel senso del Green Pass. La terza dose serve a scopi sanitari, serve a rinforzare il sistema immunitario, a evitare che questa malattia si espanda ancora di più. Un'ultima cosa, siccome se ne è parlato, la sede dell'Out Village di Città Sant'Angelo verrà spostata più in là? No, non verrà spostata, la sede dell'Out Village di Città Sant'Angelo rimarrà. Stiamo valutando di attivare un'ulteriore sede nell'ambito della città di Pescara. E noi continuiamo a parlare di vaccinazioni, soprattutto terza dose, ma non solo con un medico vaccinatore, il dottor Mauro Della Guardia. Siamo proprio in questo polo di Città Sant'Angelo. Voi da due settimane avete già iniziato la somministrazione di queste terze dosi. Sì, oltre che terze dosi anche i richiami erano quelli programmati perché avendo chiuso in Via Tirino, quelli che avevamo rimandato all'Aula Magna, adesso li abbiamo dirottati qui, insomma sono state fatte queste telefonate, per cui abbiamo iniziato qui in questo polo dell'Out Village di Città Sant'Angelo. Purtroppo sono pochissime le prime dosi perché non tutti ancora si convincono, decidono iniziare a vaccinare, per cui abbiamo veramente una media di 30 al mattino, 20 al pomeriggio, insomma sono poche le prime dosi. Mentre con i richiami delle seconde andiamo abbastanza bene, le terze soprattutto la gente viene poi aperto anche al personale sanitario, quindi stanno venendo tanti sanitari, medici e paramedici anche per la terza dose, oltre che gli anziani. Facciamo contemporaneamente, chi vuole, oltre 65 anni, anche la vaccinazione anti-influenzale, per cui insomma andiamo avanti abbastanza bene. Dottor Della Guardia, quante linee vaccinali ci sono? Abbiamo otto linee vaccinali con otto medici vaccinatori sfiancati dagli EDP e poi ci sono io che faccio un po' assistenza anche al 118 per eventuali malori post-vaccinali e poi se serve, ecco, chiaramente se quando manca qualcuno mi presto anch'io come medico vaccinatore da una mano anche a loro. Un'ultima cosa, dottor Della Guardia, le persone, soprattutto gli ultrasessantenni che devono fare questa terza dose, che cosa dicono? Sono contenti, vengono spontaneamente, vi chiedono informazioni supplementari su questa terza dose? No, veramente, ecco, devo dire, chi viene per la terza dose è sicuramente convinto di doverla fare, la fa con piacere, anzi senza nessun problema. Sono sempre le prime dosi, ecco, quelli che invece vengono, tanti vengono per avere un esonero con varie certificazioni che però purtroppo sono pochi i casi che veramente necessitano di esonero, per cui siamo costretti un po' a rimandare, non c'è l'esonero per queste persone, per cui a malincuore, ecco, rinunciano, ci devono pensare, quindi la paura è tanta. Poi non so se paura o per partito preso, però il fatto sta che le prime dosi sono quelle che, insomma, dobbiamo un po' più perderci tempo, cercare di convincerle, insomma, spiegare abbastanza, mentre per i richiami e le terze dosi non c'è nessun problema, vengono tranquillamente per farla. Lo abbiamo sempre detto, ma è bene ripeterlo, il mondo del volontariato è fondamentale in queste situazioni e noi parliamo dell'organizzazione proprio su questo fronte con Graziano Menna, che è vicepresidente del coordinamento Modavi Abruzzo. Come siete organizzati qui a Città Sant'Angelo? Qui a Città Sant'Angelo siamo stati innanzitutto attivati dalla sala operativa Regione Abruzzo per dare una mano al territorio del Pescarese per questo nuovo hub che è aperto sia la mattina che sia il pomeriggio. Noi ci dividiamo in due turni, ci sono 10-11 volontari la mattina e 10-11 volontari il pomeriggio. Ci siamo divisi in due turni appunto per dare accoglienza a tutte le persone che devono fare prima, seconda e terza dose. Diamo assistenza in base alla modulistica da riempire per tutte le informazioni, li facciamo attendere per il pre-vaccino, li accompagniamo dentro e poi attendiamo 15 minuti insieme a loro per il post-vaccino. Accompagniamo anche le persone disabili e che hanno delle patologie appunto per dare accoglienza a tutte le persone che vengono per vaccinarsi. Grazie Anna, a questo punto non possiamo che aggiungere e buon lavoro. Grazie di tutto, grazie a voi.